Ciao a tutti amici di Avriai, un salutone dal vostro green e allora, review di Karim Benzema 88 su Futur Cup ormai non ci resta che giocare a Futur Cup, dato che l'Italia purtroppo è uscita, evitiamo commenti, meglio così Allora, come si presenta questo Benzema? Intanto, il ruolo rimane attaccante, questo è il secondo upgrade che prende mentre la versione di Ultimate Team è come ruolo alla sinistra 4 stelle piede debole, 4 stelle mossabilità, work rate medio-medio per questo giocatore che si presenta con grande velocità, grande dribbling e un grandissimo tiro Cominciamo parlando delle statistiche fisiche, 87 accelerazione con 88 sprint per un giocatore alto metro 87 con 83 di forza fisica, 78 equilibrio e 87 agilità Diciamo che nel partire non sembra così velocissimo, molto probabilmente per la sua stazza però quando è in corsa, molto ma molto fisico, difficilissimo portare via il pallone nei contrasti grandissimo controllo palla, questo 87 nel controllo palla un dribbling 90 con le 4 stelle abilità che veramente vi permettono di andare via in tranquillità ad ogni difensore per poi liberare un tiro che ha veramente una potenza incredibile 97 a finalizzazione, 98 potenza tiro, 92 nei tiri della distanza con un 97 d'effetto destro, sinistro perché con queste 4 stelle che si sentono tutte anche di sinistro potete tirare alla grande da fuori aria quindi un tiro di potenza da fuori veramente incredibile anche il colpo di testa ottimo con questo 83 e un 78 nell'elevazione per un attaccante che ripeto comunque è alto, quasi un metro 90 per cui grazie anche al suo fisico in aria si fa sentire tiri al vuolo 94, può peccare un po' nel posizionamento dato che questo 78 ogni tanto compreso anche il work rate medio medio che non lo fa diciamo essere un attaccante proprio che rimane su e quindi segue di più l'azione secondo me perfetto per un 4-3-3 come punta davanti sia da profondità che da scambi 1-2 perché voi sapete fate l'1-2 e poi lui parte su quindi vi porta via comunque i difensori avete la possibilità con gli esterni di rientrare, servire lui per un tiro oppure andare a crossare buono anche in un modulo con due attaccanti magari affiancato ad uno ben più rapido e veloce un giocatore quindi che nelle sue corde ha praticamente tutto perché ripetiamo e così andiamo a ricapitolare un po' abbiamo velocità, abbiamo dribbling, abbiamo le skill, abbiamo un tiro che con entrambi i piedi è buono soprattutto ovviamente sul suo piede si sentirà tutta la potenza di questo giocatore qua abbiamo una forza fisica che gli permette di andare alla grande sui colpi di testa vi segnerà molti gol nei colpi di testa se lo usate come unica punta potete tirare da fuori veramente un giocatore che con questo 88 di overall si presenta come una vera bestia macchina da gol anche con i tiri a giro se lo avete trovato nei pacchetti ovviamente utilizzatelo perché è veramente veramente forte e ragazzi questa è la review mi raccomando come sempre lasciate un bel like e un bel commentino noi ci vediamo al prossimo video e vi saluto con il mio Stai Barba Stai Qualità ciao belli